Svegliamoci un po' da questo sogno di Airbnb perché non è più la realtà, forse lo è stato all'inizio, forse, adesso Airbnb è comandato dai capitali, non certo più dai tre founder, c'è il capitale, ce n'è tanto, il capitale americano che decide dove debba andare Airbnb, dovrà fare un'OPA, vuole semplicemente monetizzare, noi non lo sappiamo, però la cosa è chiara, Airbnb ormai è come tutti gli altri, è un'attività che deve fare soldi. In che direzione stiamo andando? La mia paura è che stiamo andando nella direzione di Uber perché ha fatto una cosa molto simile, come Uber prendi un mercato che esiste, quello dei taxi, ci aggiungi un sacco di tecnologia, quindi rendi più facile le transazioni, fai entrare nel mercato persone che non ci lavoravano, gli vendi l'idea che possono vivere meglio, che possono avere un lavoro migliore, che è una community, che è tecnologia, che è tutto quello che vuoi, quando le cose funzionano comincia a estrarre come il petrolio tutto il valore possibile e vai nella direzione di una posizione di quasi dipendente senza diritti. Quando hai solo una piattaforma come Airbnb che ti manda ai clienti non è che puoi protestare più di tanto, ok? Quindi sei dipendente, però non hai i diritti del dipendente, non hai uno stipendio fisso, devi lavorare bene, ti possono mandare via in qualsiasi momento, ok? E a te restano le briciole. Questo è un po' il rischio che stiamo vivendo oggi. Dobbiamo cominciare a ragionare su come reagire a questa situazione. E attenzione che questa non è una mia analisi su Airbnb, è un'analisi fatta da altri, per esempio dal Financial Times, sul potere delle piattaforme. È così che funzionano Amazon, Uber, Airbnb, qualsiasi piattaforma marketplace tende a seguire questo sviluppo. Poi arrivano ad acquisire uno strapotere e tendono ad approfittarne. È tutto qua. Per concludere, inizia una fase più matura. Airbnb è un sistema per fare soldi, come giusto che sia. Noi siamo qui per lavorare e fare soldi, come giusto che sia. Niente fuffa, trattiamoci da persone mature e lavoriamo assieme.